Un viaggio per esprimere il concetto del coraggio, della spenseratezza, del divertimento. Con queste parole può essere definito il saggio spettacolo della Fly Dance Academy di Castrovilla, ridiretta dai maestri Nicoletta Loise e Salvatore Bruno. Fatiche, problemi, confidenze, elogi e critiche, proprio come una grande famiglia. Il saggio è un appuntamento sempre importante per gli allievi, per la scuola, per le famiglie, dove vincere possibili timidezze e fare gruppo per esternare artisticamente le proprie emozioni e i propri sentimenti. Nella affollatissima cornice del Teatro Sibersi di Castrovillari, gli allievi tutti, accompagnati dai maestri, hanno regalato un viaggio, tuffandosi e bagnandosi nell'anima dei sognatori, toccando poi la libertà, l'armonia, la rabbia, l'eleganza, la speranza. Quello che scoprirai è davvero importante, il caffetto volante ci accompagna proprio lì, il mondo è tu. Toccanti sono stati due momenti in cui si sono ricordati l'allieva Angela Percoco, il suo sorriso, la sua energia, ricordati attraverso la danza a cui le teneva tantissimo, lo Zumba Fitness. Ancor più toccante quando sul palco è stata ricordata una mamma di un'allieva ed è stata proprio la figlia a danzare per lei, lei che si emozionava ad ogni saggio, lei che le diceva che era la sua stella, ora la stella che brilla di più nel firmamento è lei, la sua mamma. In poche ore è stata rappresentata la sintesi di un anno accademico vissuto sotto il segno di una passione costata piccoli e grandi sacrifici, nulla lasciato al caso o all'improvvisazione. Perché la danza è un delicato equilibrio tra la perfezione e la bellezza. Perché danzare è lottare contro tutto ciò che ci trattiene, tutto ciò che ci affonda, tutto ciò che pesa e appesantisce, e scoprire con il proprio corpo l'essenza, l'anima della vita. Danzando, fai danzare la tua anima.